Giovanni Strangio, condannato all'ergastolo dalla Cassazione per la strage di Duisburg tramite l'avvocato Antonio Russo, aveva proposto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo evidenziando la violazione del diritto a un equo processo chiedendo di conoscere il contenuto degli atti procedimentali dell'indagine svolto in Germania che non sono stati trasmesse in Italia. La Corte Europea ha risposto che il ricorso non sarà esaminato, rilevando in particolare che non risulta prodotto nessun estratto del fascicolo aperto in Germania. L'altro punto saliente, rilevato dalla Corte di Strasburgo, è quello relativo alla mancata produzione di atti o provvedimenti relativa alle procedure esperite in Italia e segnatamente copiate nella sentenza definitiva della Corte di Cassazione emessa nel giugno del 2016 della quale mancano sinora le motivazioni. Andando per ordine, nei mesi scorsi Giovanni Strangio, assistito dall'avvocato russo, aveva presentato ricorso alla Corte Europea lamentando fra l'altro che la Discovery non si è mai interamente realizzata. Dunque il ricorrente non è stato compiutamente informato dei motivi dell'accusa formulata a suo carico, non ha potuto correttamente esaminare i testimoni a carico poiché non ha potuto fare ricorso all'istituto delle contestazioni dibattimentali, posto che non aveva la disponibilità di tutti i verbali documentanti le dichiarazioni rese nelle fassi delle indagini preliminari, non ha potuto tempestivamente indicare i testimoni a discarico posto che non aveva notizia della loro esistenza. Secondo l'avvocato Antonio Russo, la risposta della Corte Europea consente di avanzare i seri dubbi sull'effettività della giustizia comunitaria, laddove ravvisa la mancanza degli atti tedeschi, ovvero proprio quegli atti procedimentali la cui mancata conoscenza aveva determinato l'ingiustizia del processo da costruire motivo di ricorso. La Corte chiosa, rilevando che non è stata prodotta la sentenza definitiva della Cassazione, evidentemente ignorando che tale pronunciamento è ancora inesistente, posto che la motivazione non è stata ancora depositata. Tale dato, conclude il difensore, andrebbe raccordato con la norma che stabilisce i termini di presentazione del ricorso alla Corte Europea, facendo decorrere i sei mesi dal momento in cui la sentenza diviene definitiva, che evidentemente coincide con la pronuncia della medesima, non già con il deposito delle motivazioni.